Ma lo voglio, ma lo voglio, mi avete fatto fare questo? Il giallo nelle mutande, abbiamo fatto diventare una squadra come Reika, Reika, Reika come cazzo si dice, giocatori fenomenali, a parte il gol del Reika, tanta tanta roba in ripartenza clamorosa perché lì hanno fatto veramente una grandissima azione, tre passaggi al limite dell'area di rigore, la piazza benissimo l'attaccante loro, Vaiu, applausi veramente a scena aperta per quel gol, perché è stato veramente un grandissimo gol e una grandissima azione, c'è da dire che se il Napoli nei primi 30 minuti perdeva 2-0, massimo 3-0, anche 3-0, il Reika non aveva rubato niente, perché? Perché non aveva rubato niente? Perché il Napoli nei primi 40 minuti, se non sbaglio, 35-40 minuti, non si è mai visto nello specchio della porta del Reika. È arrivato il gol del momentaneo pareggio da parte di Demme, con una mischia clamorosa dentro l'area di rigore, una palla che è arrivata a Mertens, poi Mertens l'ha messa dentro e ha segnato il pareggio, come detto, è Demme. Cosa vogliamo dire di questo Napoli? Poi, nel primo tempo, e ora voglio parlare dei primi 45 minuti, i primi 45 minuti del Napoli sono stati di un'ingenuità clamorosa, perché tu sei andato lì, pensavi di farti la scampagnata, salvo poi prenderti il gol subito nei primi 10 minuti, il Reika si è difeso benissimo perché poi ha retto veramente bene e tu, per fortuna, poi l'hai pareggiato nel primo tempo, perché se tu non pareggiavi nel primo tempo, loro si sarebbero difesi ad oltranza. Questa cosa ti ha portato un po' a favore questo gol che abbiamo fatto. Se inizia il secondo tempo, il Napoli va in vantaggio 2-1, il Napoli, diciamo una cosa, il Napoli nel secondo tempo si è trasformato, ha iniziato a fare veramente il Napoli. Ha iniziato a verticalizzare, passaggi veloci fra la difesa, centrocampo e attacco, 1-2 veloci proprio da parte del Napoli, il Reika non ha resistito più di tanto perché giustamente è stata quasi tutta la partita in difesa, però Aiu, se questi stasera non ci facevano un autogol, noi non la buttavamo dentro nemmeno con le mani stasera. Stasera è stata veramente la partita, una partita sfortunata da parte del Napoli, a parte abbiamo preso una traversa, l'ha presa anche il Reika, è che il traversa ha preso, dal limite dell'aria, un incrocio dei pali clamoroso. Però Aiu, se tu poi fai come la partita contro il Sassuolo, a fine partita, io ti sto dicendo dall'ottantesimo al novantesimo, non la butti dentro, cioè hai avuto minimo tre occasioni limpide per buttare la palla dentro, la colpa non è di Gattuso, ma è della squadra e del giocatore, perché a parte Lozano è stato anticipato clamorosamente davanti porta, però Aiu, quegli altri occasioni li devi segnare, dovete sfondare la porta. Ora ci aspetta il Bologna, non credete che sia una partita tanto facile con il Bologna, iscriviti al canale e sempre Forza Napoli.